Gio, siamo nei pressi di Via Ledetable dei Platani in direzione autostrada, hai trovato un cane, in che condizioni hai? Allora abbiamo ritrovato uno dei tanti cani che abbiamo ritrovato qua a Partinico, tra Partinico e Borgetto, qua siamo allo svincolo della Via dei Platani che porta verso l'autostrada sul scolumento 113, abbiamo trovato questa bella cucciolona un po' anziana, sembra così con tanto di collare, purtroppo l'ennesimo ritrovo che facciamo qua a Partinico. La mia rabbia è pure quella, come l'ho visto io questo cane che è qua fermo in questo spartitraffico, chiamiamolo così perché non è una rotonda, è un spartitraffico, come l'ho visto io penso che passando i vigili urbani o tanta altra gente l'avrà visto, io so che è da più di una settimana che è qui questo cane, qualcuno tramite le mie segnalazioni di foto e video ha detto che l'hanno riconosciuto e quindi forse sanno anche che è un cane da caccia, è una femminuccia che sembra che già poco tempo fa avrà fatto i cuccioli e quindi in tutti i modi stiamo cercando di aiutare, questo è l'ennesimo diciamo che troviamo e che proviamo a fare qualcosa. Io fino a ieri abbiamo trovato uno morto accanto all'Enel, sembra che sia stato investito, almeno così ci hanno spiegato, è stato abbandonato lì, messo da parte, questa mattina non c'era più e mi sa che ho capito forse dov'è che l'hanno messo perché c'era la raccolta dei rifiuti e quindi non so, vabbè, evitiamo quest'altro commento. Io ringrazio voi per il triato perché so come siete sensibili su queste cose, che aiutate sempre e che vi mettete come adesso a completa disposizione per cercare di fare qualcosa e salvare quel che si può. Io come dicevo a telecamera è spenta, al microfono è spento, è che a Partinico esiste un end che si occupa di queste cose, però purtroppo sembra che tutto fa tranne che è quello, che è occuparsi del randaggio, che a Partinico, Borgetto, diciamo la nostra zona è strapiena, c'è di tutto, noi cerchiamo di fare, fino all'altro giorno abbiamo consegnato uno al proprietario che è scappato, speriamo che anche questa piccola sia scappata a qualcuno e che ritroviamo il proprietario e se lo viene a prendere perché è tra l'altro pure pieno di pulci e zecchie. Gli diamo da mangiare, da bere e vediamo un po' quello che si riesce a fare. Infatti tu hai portato dei croccantini e anche una ciotola con l'acqua, sei stato l'unico? Sì perché purtroppo io altri non ne ho visti, quindi da vari commenti su Facebook, tutti ci sono oggi, penso io, ci porto qualche cosa, non so cosa gli hanno portato, non c'era niente a vista e quindi non c'era una ciotola, una cosa in più dove lui ci gira qui attorno e gioca tranquillamente, a più minuccia. E niente, io mi sono ormai, diciamo, meno male già in macchina nel cofano sono munito di mangiare acqua, bottiglie d'acqua per loro e quindi sono andato a recuperare una ciotola, un pentolino per metterci l'acqua, ce l'ho messa, dalle immagini si vedranno, e anche una ciotola che era un, non mi ricordo come si chiamano queste cose, un pentolino? No no, c'è quella di pasta, di croccantini, una scolapasta, e il classico contenitore della ricotta, dove si mette la ricotta a scolare, diciamo, mi sembra che sia così, l'ho trovata e ci ho messo in croccantini, non mangia più di tanto perché ho notato questo, anche se ho visto che ha problemi con i denti perché è abbastanza anziana, gli hanno tagliato la coda, gli manca completamente la coda, non c'è neanche una piccola punta di coda, gli hanno tagliato completamente. Non è la prima volta che ti occupi di questa strada? È andata in un terreno. Allora, ecco, abbiamo già dato la camera, abbiamo visto che da qua è scappato, è stato infiliato in una stradina, abbiamo un po' di paura perché non guarda quando passa, passa di fretta, quindi abbiamo un po' di paura adesso, ecco, è in mezza strada. Vedete, dalle immagini, state vedendo le macchine che passano, qui giustamente siamo a questo svinco, è lei che gira così e che passa, che abbiamo visto che ha passato di corsa senza neanche guardare. Gio, non è la prima volta che curi dei cani abbandonati? Allora, no, ormai purtroppo, forse perché io già ne ho qualche sei cuccioli, in cui quelli che abbiamo preso e quelli che abbiamo recuperato in mezzo alle immondizie, che me li sono portati nel mio terreno e li accudisco, li ho fatti curare, tutto quello che gli serviva. Diciamo che con un piccolo gruppetto, siamo 3-4, praticamente quelli più forti tra Partenica e Borgetto, cerchiamo di fare qualcosa. Fino a qualche mesetto fa abbiamo recuperato 8 cuccioli a Romitello, li abbiamo portati in stallo a Cinesi a pagamento perché sono dei posti che si paga il mensile per tenere cuccioli a Romitello. Tramite delle chat di tutta Italia abbiamo raccolto dei soldi e siamo riusciti a pagare sia in mangiare che dei mesi di stallo a questi cani lì a Cinesi. Grazie a Letizia, questa la metti. E quindi già 4 sono stati adottati, altri 4 sono ancora là. Già adesso avranno 3 mesi circa, sono belli grandetti, cerchiamo sempre di fare qualcosa. Io ringrazio anche quelli di Partenica e Borgetto, che sono quei quattro. Se non abbiamo più dove mettono, non abbiamo qui a Partenica, lasciamo stare il comune che ha abbandonato a se stesso, io posso parlare tranquillamente, sì mi confermo, c'è bisogno che chiacchiamo qualcuno, no? Il comune è stato abbandonato, ha abbandonato questo paese perché il sindaco giustamente ha pensato ad altro, più grosso, e quindi il paese diceva, vabbè, per quanto tanto per com'era, peggio di così non può andare. Tutto l'equipe del comune. I vigili li chiamiamo, sì li chiamiamo, però purtroppo la loro risposta è sempre quella, non possiamo, portatevelo voi, noi non abbiamo soldi, lasciamo stare poi l'ufficio rannaggissimo, peggio ancora. A Borgetto, fortuna, miracolo, quando ancora c'è il sindaco, miracolo, siamo riusciti a fargli fare un accordo con la clinica vaglica di Carini e quindi già gli abbiamo portato sei cani trovati a Borgetto e sono in cura là. E questo è un miracolo.